E' stata comunque una notte magica, il simposio etrusco che ogni anno si tiene a Ladispoli, ieri sera in versione ridotta, si è svolto a Marina di San Nicola, nella terrazza del mare dell'area archeologica. L'iniziativa della Prologo di Ladispoli, seguita da un concerto di musica contemporanea, è stata molto apprezzata dal pubblico che ha assistito ai due eventi seduto su De Tili. E' proprio il luogo giusto per raccontare in maniera emozionale i nostri antichissimi avi, gli etruschi. Naturalmente poi racconteremo episodi che coinvolgono anche l'antica Roma, quindi proprio siamo nel luogo ideale. Quindi magnifico scenario, poi dopo di noi c'è anche un grande concerto musicale, fantastico, quindi storie, storia, storie e cultura musicale mi sembra insomma un abbinamento fantastico. Sulle note di Ennio Morricone, da un'idea di Luigi Maio, la serata si è chiusa in grande. Questa sera abbiamo i maestri Luca Pincini e Gilda Butta, che sono, oltre ad avere migliaia di collaborazioni, sono soprattutto pianista e violoncellista di Ennio Morricone da oltre 30 anni. Quindi li volevo far conoscere anche al nostro pubblico, più da vicino. Io ho avuto la fortuna di fare anche dei tour mondiali con loro. Questa era l'occasione per portarli anche qui dalle nostre parti e farli conoscere.